La città metropolitana di Milano dice no alla piscina in via Corbettina a Bareggio e quanto è possibile leggere nelle valutazioni ambientali relativi alla variante di piano di governo del territorio del comune, una notizia che fa esultare gli oltre 400 cittadini che hanno firmato per chiedere il trasferimento del progetto nell'area Facchetti, sia per questioni di quiete pubblica, dato che in via Corbettina le abitazioni sono molto vicine all'area dove dovrebbe sorgere la piscina, sia per questioni ambientali, volendo loro mantenere lo spazio allo stato naturale. In particolare la città metropolitana rileva che nella variante del PGT per l'area di via Corbettina non viene indicato il vincolo di area boscata, cosa che viene inserita direttamente dalla città metropolitana, dato che le modifiche apportate al piano, si legge, sono immediatamente esecutive e costituiscono variante agli strumenti urbanistici. In più, città metropolitana prescrive di stralciare la previsione dell'impianto natatorio e dei suoi annessi alla variante di PGT. L'area oggetto della previsione della piscina, prosegue il parere, è parte di un ambito boschivo, di cui fa parte anche una porzione del parco Arcadia, di dimensioni ragguardevoli, in rapporto alla forte penuria di elementi boscati del territorio metropolitano, soprattutto di una certa grandezza. Lo stesso punto sollevato anche dai cittadini che a bareggio sono contro la realizzazione della piscina in via Corbettina. La procedura di valutazione ambientale non è ancora conclusa, anche se il parere della città metropolitana è di assoluta rilevanza e non potrà non essere considerato.